Ritroviamo anche questa volta la figura di Giovanni Battista. Il centro di questo racconto sembra riportare un aspetto in apparenza banale. È la questione del nome da dare al bambino, ma come ben sappiamo il nome indica la natura della persona, la sua missione, il suo valore unico e irripetibile. Infatti Giovanni significa Dio fa grazia e sappiamo pure nell'uso ebraico di imporre al neonato il nome del genitore o di un antenato che voleva indicare la continuità con il passato. Qui viene interrotto perché questo bambino ha un cammino proprio da percorrere al di là della parentela o della discendenza carnale. Quel nome nuovo che non si inserisce nella linea genealogica annuncia che Dio vuole inaugurare una nuova alleanza propessa dei profeti. Buona giornata.